Salve carissimi amici tuttubi, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mio, benvenuti, se è la prima volta che venite a visitarla, quest'oggi parliamo di Justice League Dark, volume 1, l'ultima era della magia, The Last Age of Magic. James Stinion IV ai testi, Alvaro Martinez e Paul Fernandez ai disegni di questa collana. E partiamo subito da una premessa, quest'albo qui non mi è stato sufficiente, nel senso che a metà di questo albo qui si è aperto un crossover, crossover le cui conseguenze sono comunque riportate in un qualche modo all'interno di questo volume, ma che ho preferito leggere per vie traverse, quindi ok, perché in questo momento il crossover è disponibile solo in cartonato e giustamente c'ho la serie da cui inizia il crossover in brossurato, mi prendo sicuramente il cartonato con l'evento. Ottima scelta strategica DC Comics, quindi lo prenderò comunque l'evento quando uscirà in brossurato perché comunque mi è piaciuto, però nel frattempo ho già dovuto leggerlo. Quindi distinguiamo ben quattro fasi di questo in questo video, questo perché è possibile vedere quattro fasi ben distinte. I primi tre capitoli di questa serie di Justice League Dark ci mostrano un pochettino l'inizio di queste vicende. La magia a causa degli eventi di Metal prima e di No Justice sta avendo qualche complicazione, Wonder Woman in un qualche modo legata all'universo magico molto alla lontana, essendo comunque lei figlia di divinità e quant'altro, si prende l'incarico come membro della Justice League di investigare, indagare su che cosa stia succedendo, chiede innanzitutto l'aiuto di Zatanna, che comunque è un'importante maga dell'universo DC, trova come suo alleato che vuole un attimino studiare e approfondire la magia Mambat, non ha capito perché l'inserimento di Mambat non essendo lui per niente collegato alla magia, però questo atteggiamento un po' scientifico, analitico, critico, che vuole approfondire per cercare di capire, mi è piaciuto, è lo scienziato che non fa parte dell'universo magico ma che vedendo negli effetti prova a cercare di spiegarlo in maniera logica, questo mi è piaciuto, però rimane un po' esterno. Abbiamo poi Detective Chimp, che non so per quale motivo sia collegato alla magia, in che modo c'è qualcosa che ci viene mostrato, intanto qui alla mia sinistra vedete le immagini dettate dalla serie, piacevole come personaggio Detective Chimp, per tanti vari motivi, risulta tra i miei preferiti di questa serie, però anche lui un pochettino strano come scelta. Abbiamo Swamp Things, che sì, fa parte della squadra, boh, per metà del tempo è fuori dalla squadra, però diciamo che la magia si sta disfacendo molte delle entità e delle creature magiche dell'universo DC avvertono che c'è qualcosa che non sta andando al 100% e quindi si offrono anche di collaborare con questa Justice League Dark, composta, come avete visto in copertina, da Wonder Woman, Zatanna, Detective Chimp, Swamp Thing e Mambat. Nella primissima parte, quindi nei primi tre capitoli, c'è la formazione di questa squadra, l'inizio di un'indagine per cercare di capire che cosa stia disfacendo la magia e alcune rivelazioni sul passato, sulle origini di Wonder Woman e dell'universo magico che sono stati messi in un qualche modo insieme, creando un'interazione anche molto forte, che dà il via alla seconda fase di questa lettura, di questa mia lettura, precisamente col crossover intitolato The Witching Hour, quindi l'ora delle streghe, che riguardava da un lato Justice League Dark dall'altra Wonder Woman. Nel mentre quindi che il passato di Wonder Woman è venuto pochettino alla luce, l'universo magico si sta totalmente disfacendo e la Justice League dovrà cercare di capire come aiutare Wonder Woman a risolvere una certa determinata situazione. Andando però a complicare il tutto, rimango vago sul crossover che in generale mi è piaciuto, mi è piaciuto perché comunque ho avuto modo di approfondire Wonder Woman, personaggio di cui sì, l'ho letta la Justice League, però mi limito un pochettino a quello, ma leggendo anche questo tentativo di James Dean un quarto, di legarlo fortemente la mitologia diciamo greca antica alla magia e quindi a quello che sta succedendo, rendendo Wonder Woman di fatto un tassello chiave fondamentale, mi ha fatto estremamente piacere e penso che i fan di Wonder Woman questo periodo qui possa solo che far piacere, visto e considerando che qualche importanza ha Wonder Woman un pochettino in tutto questo. Non so effettivamente troppo, quindi quanto degli antagonisti di Wonder Woman fossero già potenti nella magia, quante effettivamente fossero legate alla magia, se questi personaggi c'erano già prima, non c'erano, quindi ha accettato di molte cose, l'ho accettato come un ok, le sto leggendo per la prima volta, magari c'è qualche retroscena, cose già viste che io non so. Il crossover è importante proprio perché ci viene mostrato un pochettino l'universo magico a 360 gradi, con anche tanti altri personaggi secondari, tra virgolette, magari anche principali per l'universo magico di Sea, ma che non fanno parte di questo team e quindi non li ho ritenuti così essenziali, tra cui Costantin e Dr. Fate, e il crossover comunque è proceduto in una maniera abbastanza interessante. Ritornando sulla serie principale, si può notare altri due bei momenti. Il capitolo 5 e 6, che sono l'immediato dopo crossover, nel quale Detective Chimp, che si chiama Bobo, non l'ho scoperto qui ma qui ci ho fatto caso particolarmente, avrà tutto una sua parentesi, tutto un suo spazio, nel quale ci viene fatto capire perché nei primi tre capitoli si comportava in un certo modo, perché diceva certe cose, che cosa gli stia succedendo effettivamente alle spalle, abbiamo modo di vedere gli altri personaggi che interagiscono tra di loro e riflettono sulle conseguenze del crossover che c'è appena stato, quindi se non l'avete letto ci sono intere battute, intere sequenze, intere pagine che non hanno senso, quindi boh perché non inserirlo non lo so, piuttosto facevano i primi tre capitoli, il crossover, fine del primo volume, il secondo volume cominciava con questa storia di Detective Chimp, avrebbe avuto perfettamente senso, e infine l'ultimo capitolo è un Mambat che ci informa che a seguito degli eventi del crossover The Witching Hour, stanno succedendo cose dell'universo magico e vediamo Zatanna che fa una certa determinata cosa, abbiamo Wonder Woman che lavora con lo Shade, abbiamo Swamp Thing e Detective Chimp che stanno indagando su un'altra cosa ancora, perché quello che è l'antagonista, quello che sta distruggendo la magia, sta operando ed è Mambat che ci sta raccontando che cose i suoi alleati stiano facendo per fermarlo in un qualche modo, sono tre storie brevi condensate in un capitolo unico, scelta piuttosto particolare, non mi è mai capitato di leggere un albo del genere, e quindi mi ha abbastanza stranito, però è stato piacevole, molto molto piacevole. In definitiva, ho cercato di non fare spoiler, ma è comunque una massa di roba che ho letto abbastanza impegnativa e notevole, nel senso che ce n'è tanta, tante cose che succedono, cercare di non fare spoiler risulta anche piuttosto tosto, ma ho cercato di rimanere proprio vaghissimo per una serie che non so come prendere, nel senso, nel senso. Sicuramente Justice League di Scott Snyder è la testata principale per chi vuole leggere le avventure dei supergruppi della DC in questo momento, con tutto quello che sta più o meno succedendo. Justice League Odyssey è una serie totalmente sopra le righe, che mi ha divertito tantissimo, non vedo l'ora di leggerla, sotto quell'aspetto, perché è una storia divertente ed estremamente sopra le righe. Questa è una serie che riguarda un aspetto particolare dell'universo DC, l'universo un pochettino più magico, di cui conosco praticamente nulla, e di cui questo non è un buon inizio, nel senso che, senza conoscere effettivamente i personaggi, che cosa fanno, di cosa sono capaci, quali sono gli aspetti che riguardano più loro che gli altri. Risulta abbastanza faticoso entrare in sintonia con le situazioni che si vanno a creare. Questo perché James St. Unquarto, secondo me, ha studiato abbastanza la materia, ha studiato i personaggi, e sa effettivamente cosa fargli fare. Il team che si è venuto a comporre è un team che mi intriga anche sotto molti punti di vista, sia Wonder Woman che Zatanna che Detective Chimp sono personaggi che mi sono sembrati molto forti, molto carismatici e molto affascinanti. Swamp Thing di contraltare è un po' Mambat piacevole perché è il mio punto, sono io Mambat in questo momento, che sta cercando di capire che cosa stia succedendo. Con tutto questo afflusso di personaggi strani e di mitologia greca mi risulta interessante, però non così tanto da farmi dire voglio continuare a seguire questa fase dell'universo, voglio ancora continuare a leggere questi personaggi per molto tempo. Ho già ordinato in realtà il secondo volume di Justice League Dark, mentre leggevo questo volume qui mi sono detto ok, non so se voglio leggere tutta questa serie, ma do una buona possibilità al secondo volume, perché effettivamente il volume mi è piaciuto, ci sono state tante cose belle, però non mi ha acchiappato al 100%, non mi ha convinto appieno. Quindi, boh, aspetto molto volentieri però il prossimo volume, perché comunque James Tino IV mi ha abituato molto bene nel suo Detective Comics, nei suoi lavori di squadra, qui è riuscito più o meno a riprendere quella formula per cui dà importanza a tutti i personaggi, riesce a dare un ruolo a tutti i personaggi, più o meno, in questo caso qui Swamp Thing è scomparso, ma presumo che ci sarà il suo momento, così come era il Detective Comics, che non c'è, non era, non ho ogni arco narrativo, era dedicato a tutti, ma tutti avevano un ruolo nel corso di tutta la sua gestione, e mi viene da dire, posso fidarmi di lui come autore, però aspetto di leggerne qualcosina in più per poter dare un giudizio effettivamente sulla serie, prima di dire mi piace, non mi piace, ne leggo ancora qualcosina. Voi, so che in Italia è già uscito buona parte del materiale che ho letto, ma ho cercato di non fare spoiler perché non si sa mai, nel caso qui sotto nello spazio dei commenti possiamo tranquillamente discutere di l'ultima era della magia, del crossover The Witching Hour, molto tranquillamente, fatemi domande, se volete dire la vostra su questi archi narrativi, anche con spoiler, fatelo senza problemi, magari segnalate che state facendo degli spoiler per chi vuole leggere i commenti ma non vorrebbe avere spoiler, mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto, condividete con altri fan di questo universo, datemi dei consigli se volete, così che io possa ampliare nel caso questa mia conoscenza su questo universo, quello magico della DC per l'appunto. Detto questo, da Francesco, il popo alle mie spalle, dalla soffitta di camera meno più soffitta è tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao! Aperta chiusa parentesi, non ho detto niente dei disegni, i disegni sono fotonici, cioè tra Martinez, Fernandez e credo che nel crossover ci sia Emanuele Lupacchino, cioè che comparto grafico è? Cioè, fotonico, veramente fotonico. E basta, chiudiamo con questo video. Ciao!